Perché la mobilitazione intorno a questo tema si ha da più parti, molte regioni stanno facendo delle raccolte firme, delle petizioni a sostegno di questa iniziativa e poi anche alla luce purtroppo dei casi di cronaca, di inaudita violenza a cui siamo stati sottoposti e che davvero hanno segnato un po' la coscienza di tutti noi. Quindi riteniamo che il legislatore e il garante della privacy non possano ignorare questa emergenza.